Musica Torna a riunirsi il consiglio regionale pugliese, tanti punti all'ordine del giorno, intanto spazio ai deputati pugliesi nel nuovo direttivo nazionale del Partito Democratico. Nuovo colpo alla mafia foggiana, otto arresti e sequestro milionario, sgominati gli affari dei boss a Pescara. Dalla Tiano a Kiev, un basso rilievo rappresentante, San Michele Arcangelo in viaggio verso l'Ucraina in segno di pace. 14 marzo, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione interregionale del nostro telegiornale. Dunque è tornato a riunirsi il consiglio regionale pugliese, diversi i punti importanti all'ordine del giorno, in un momento sicuramente delicato per la politica e per le amministrazioni nel nostro territorio. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Bari, con il nostro Antonio Bucci. Ciao Antonio, ben ritrovato. Eccoci, eccoci, buon pomeriggio. Quel consiglio regionale non è ancora iniziato e questo è già un segnale. Si sta concludendo la riunione dei capigruppo. Da quel momento in poi sapremo se questa sarà, ad esempio, la giornata decisiva per decidere le sorti dell'ufficio di presidenza, che poi vuol dire il destino di Sergio Clemente, del gruppo di azione e del perimetro del centro-sinistra a trazione Michele Emiliano. Ecco, la domanda è, si decide oggi? Al momento non lo possiamo dire. Il capigruppo è ancora riunita, qui in aula stanno arrivando alla chetichella alcuni dei consiglieri. Se può servire è arrivata l'urna, è arrivata l'urna nella quale imbucare le schede. che serviranno anche ad eleggere il garante delle persone con disabilità, anche quello all'interno dell'ordine del giorno. Si riparte esattamente dalla legge sulla difesa civica, affirma Demma, Luce Parchitelli, Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno, che poi è quella sulla quale è caduto il numero legale nella scorsa seduta due settimane fa. Se però sia questa la giornata nella quale siano destinati a sciogliersi i nodi politici interni, all'assise è ancora da vedere. E allora facciamo così. Vi facciamo ascoltare il riassunto di quello che potrebbe esserci in questo Consiglio e poi vi dico quali sono le possibilità, le ipotesi che stiamo vagliando in questi minuti. A due settimane di distanza dall'ultima sessione di lavori della Massima Assise torna a riunirsi il Consiglio regionale pugliese. Stavolta potrebbe essere quella decisiva per sciogliere il nodo dell'Ufficio di Presidenza, tradotto vuol dire mozione di decadenza ai danni di Sergio Clemente, in carica, in quota d'azione, ma ormai fuori dal perimetro della maggioranza. Per il provvedimento i voti del centro-sinistra non bastano. Finora è rimasto confinato al rango di ipotesi, ma senza mai concretizzarsi, se non nella forma più lieve della moral suasion. In caso di accordo, per assegnare lo slot ai civici di Conno oppure ad una donna in quota dem, e al momento la prima ipotesi è più accreditata della seconda, si potrebbe trovare una quadra, riaffidando così lo slot della minoranza all'azzurro Napoleone Cera. Torna l'Istituto della Difesa Civica, già in aula nella scorsa seduta, proposta a firma dei Dem, Parchitelli, Bruno, Caracciolo, ma sono in agenda anche le elezioni del nuovo garante per le persone con disabilità e la sostituzione dell'azzurro Vito De Palma nella consulta regionale della cooperazione in quota alla minoranza. Allora, ti posso confermare alcuni punti fermi. Il primo dei punti fermi è che ci sarà una mozione di decadenza ai danni di Sergio Clemente. Dovrebbe presentarla la minoranza, che poi è quella che si troverebbe nella posizione più scomoda in caso contrario. Lo slot della maggioranza potrebbe spettare ai civici e potrebbe vuol dire che non è ancora definitivo il nome del prescelto. Adesso, anche questo, ad un passo dalla caba, l'abbiamo intercettato il consigliere Leoci che alla vigilia era dato tra i papabili per l'incarico. Lui ha rigorosamente smentito, ma d'altro canto così si fa alla vigilia di un voto. Sarà questa la giornata nella quale si sciolgono questi indugi? Se è per questo c'è pure chi ci ha detto nel backstage siamo sicuri che il Consiglio si tenga, siamo sicuri che il Consiglio non si chiuda anzitempo prima di chiudere quei nodi? Insomma, a questo punto possiamo dire, come si dice in questi casi, stiamo a vedere con la promessa però di tornare a collegarci nei Tg provinciali per capire da dove stia ripartendo questo Consiglio, anche perché questo è il primo dopo l'Assemblea nazionale del PD che ha consacrato l'ishline, quindi può anche essere che questa sia la giornata nella quale esista un cambio di rotta. Vediamo se il consigliere vuole intervenire in diretta? Non necessariamente solo per sciogliere gli indugi. Abbiamo novità sull'ordine del giorno? Ancora no. Ancora no, ci dice il consigliere Leosi che però scaramanticamente prevedisce non fare una capatina davanti alla telecamera. Facciamo così, vi restituiamo la linea, salvo però tornare in diretta dal Consiglio. Qualora dovesse avere chiaramente degli aggiornamenti anche nei prossimi minuti potrei richiederci la linea anche nel corso di questa edizione interregionale del nostro telegiornale, altrimenti poi ci riaggiorneremo nelle edizioni provinciali. Grazie dunque intanto ad Antonio Bucci che faceva riferimento anche alla riorganizzazione nel centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico. Ebbene, nel nuovo direttivo nazionale del PD c'è spazio anche per deputati pugliesi. Loredana Capone, vicepresidente dell'Assemblea nazionale numero 2 di Stefano Bonaccini, stessa carica che aveva ricoperto Domenico De Santis che ora si avvia a sua volta a guidare il partito pugliese con il congresso in agenda tra due settimane. Il PD targato Schlein ha una cinghia di trasmissione a forte trazione pugliese in direzione nazionale a pro dall'ex ministro Francesco Boccia. Ci sono Ubaldo Pagano e Marco Lacarra vicini al governatore e al sindaco di Bari. C'è Alberto Losacco vicino all'ex ministro ed ex segretario Dario Franceschini. Ad Alissa Campanelli, invece, rappresenta la componente di articolo 1. Dai banchi di Via Gentile c'è Raffaele Piemontese, così come il tarantino Michele Mazzarano. Titti De Simone è consigliera del presidente ed è stata tra i coordinatori della mozione. E poi gli amministratori come Paola Romano, assessore alle politiche giovanili a Bari, Rosa Cascella, capogruppo DEM al comune di Barletta, o Laura Manta, in fascia tricolore a Collepasso, con la tarantina Alessia De Santis a capo di un movimento civico, il primo a fare le spese del nuovo corso. In compenso, pare poter essere il gallipolino Stefano Minerva. Il primo a fare le spese del nuovo corso potrebbe essere il gallipolino Stefano Minerva, inizialmente dato in pol per la presidenza dell'Assemblea Pugliese, ipotesi che però pare tramontare. Andiamo alla politica nazionale, perché resta un campo minato il tema dell'immigrazione, soprattutto la luce dei recenti fatti che ci ha consegnato la cronaca. Nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Da Roma ci racconta tutto Francesco Manigrasso. Un'altra tragedia in mare, questa volta nelle acque a largo della Libia, dove è naufragato un barcone con a bordo 47 migranti, riaccende la polemica tra maggioranza e opposizione. Il terreno di scontro è il possibile nodo voluto dalla Lega dell'eliminazione della protezione speciale per i vincoli familiari dei richiedenti asilo, un punto che crea dissapori nella stessa maggioranza. Per Fratelli d'Italia la protezione internazionale allo Stato non si può restringere. La neosegretaria PDE, Lischlein, va all'attacco e parla di disumanità del governo, a farli da eco il pentastellato Conte. Intanto che abbiamo la ricetta, che inventiamo una ricetta giusta, abbandoniamo quella sbagliata e usiamo umanità e razionalità. Non propaganda. Basta propaganda sulla pelle dei poveracci. La propaganda di questo governo, che parlava di blocco navale e di tutte altre questioni retoriche, si scontra poi con la realtà. Purtroppo con la propaganda però poi muoiono le persone. Quindi chiediamo a questo governo un po' di contegno e di trovare veramente una soluzione, se è capace, altrimenti di andare a casa. A preoccupare l'esecutivo che difende il suo nuovo decreto, varato a Cutro, ora al vaglio del Senato, invece lo scenario con 700.000 persone potenzialmente in fuga nei prossimi mesi dalla Tunisia, vicino al default. Noi non possiamo gestire una prospettiva di 700.000 persone o di milioni di persone senza una politica europea concordata, senza una politica che programmi dei flussi di arrivo contenuti e che però si attrezzi a respingere invasioni unilaterali. Le migliaia di partenze verso l'Italia e solo verso l'Italia di questi giorni testimoniano che siamo sotto attacco. Bene ha fatto il governo a prendere misure severe. Ci aspettiamo dall'Unione Europea una collaborazione concreta e dalle opposizioni di non essere accusati come governo per fatti che avvengono in acque libiche, dunque ben lontane dalla responsabilità nazionale. Adesso andiamo in Basilicata. È stata promossa dalla Libera Università delle Donne un'indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio e la denatalità in Basilicata. Francesco Cutro. Via dalla Basilicata per necessità o per scelta? E partendo da questa domanda che l'Associazione Potentina Libera Università delle Donne, in collaborazione con l'Università di Salerno, ha avviato un'indagine rivolta ai Lucani che sono andati via dalla Basilicata negli ultimi 20 anni per indagare sul fenomeno della migrazione giovanile e della denatalità. Si svilupperà in cinque sezioni per provare a spiegare i motivi della migrazione, l'attuale condizione professionale, l'eventuale propensione a fare rientro in Basilicata e altri aspetti di comparazione tra il territorio dove si risiede ora e quello lasciato, oltre alle motivazioni. L'obiettivo della ricerca non sarà quello di dare risposte, ma favorire un dibattito pubblico favorendo elementi certi. La nostra intenzione è quella di indagare il fenomeno diciamo in un senso un po' più ampio rispetto all'emersione del dato secco, che cioè si va via dalla Basilicata o si decide di non avere figli per un motivo di precarietà solo lavorativa. Cerchiamo di indagare le motivazioni altre che ci possono essere dietro questa scelta attraverso la somministrazione di questo questionario. Il questionario punta a ricostruire un identikit delle persone che si sono trasferite nel corso degli ultimi vent'anni, quindi non necessariamente rivolto alla componente più giovane della popolazione che è emigrata negli ultimissimi anni. Per favorire in qualche modo questo dibattito pubblico e per fornire degli elementi di conoscenza più dettagliati, maggiormente in profondità, quello che noi vogliamo realizzare è un'indagine che in qualche modo restituisca perlomeno alcuni dati. Duro colpo alla mafia foggiana che aveva portato i suoi tentacoli anche in Abruzzo, a Pescara in particolare. Ci racconta tutto Ilaria Delvino. 11 misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara col supporto del locale reparto operativo aeronavale e la collaborazione delle fiamme gialle foggiane hanno eseguito, lungo l'asse adriatico, i provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale dell'Aquila nei confronti di personaggi di spicco della cosca società foggiana. Tra le misure cautelari, 8 arresti, metà in carcere, metà i domiciliari, un obbligo di dimora, due obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300 mila euro in contanti e un vasto paniere di quote di cinque società del pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara nell'ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia. Le investigazioni, i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche e ambientali di oltre 700 mila conversazioni hanno svelato i rami del business del clan Moretti-Lanza-Pellegrino nel Pescarese. Usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. Un giro d'affari milionario che nel tempo ha consentito alla cosca foggiana di infiltrarsi nel tessuto socio-economico del capoluogo adriatico, inquinandone con il metodo mafioso la realtà produttiva tramite sia i traffici leciti sulle piazze locali che gli investimenti nelle attività imprenditoriali di spicco del territorio. Torniamo a occuparci adesso invece del duplice omicidio di Serranova con gli ultimi sviluppi che arrivano dalle indagini dopo la confessione dell'uomo 84enne che ha ammesso nei giorni scorsi di aver ucciso il fratello e sua moglie Gianmarco Di Napoli. A bordo della sua Nissan Micra Cosimo Calò ha lasciato per almeno due volte la sua abitazione alla periferia di San Vito dei Normanni per imboccare la strada provinciale 36 che porta al borgo di Serranova distante una manciata di chilometri. In entrambe le occasioni aveva appoggiato sul sedile posteriore il fucile Breda calibro 12 che aveva comprato dieci giorni prima in armeria e aveva un obiettivo preciso voleva uccidere il fratello Carmelo che considerava l'origine dei suoi guai. Nel pomeriggio del 28 febbraio lo cercò incontrare da Canali nella casa in cui di solito vive d'estate non avendolo trovato bussò all'abitazione accanto quella dell'altro fratello Tonino e uccise a fucilate prima lui e poi la moglie Caterina Martucci. Quella sera Cosimo tornò a casa senza alcuno scrupolo di coscienza e dopo una notte insonne alle 4 del mattino risalì in auto e percorse la stessa strada era determinato a uccidere anche Carmelo stavolta si piazzò davanti alla casa in cui il fratello vive d'inverno nella borgata di Serranova ma per fortuna quella mattina la vittima designata non uscì di casa e alle 5.30 Cosimo andò via quella stessa sera Carmelo scoprì i cadavri massacrati di Tonino e Caterina nella loro abitazione la freddostinazione con cui l'84enne Cosimo Calò dopo aver ucciso il fratello e la cognata ha pianificato anche l'eliminazione di Carmelo e alla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere con cui il GIP Vilmagilli ha ritenuto che in questo momento la cella sia l'unico luogo in cui l'uomo seppure in età avanzata può essere ristretto perché una volta fuori potrebbe tentare di portare a termine il suo progetto pluriomicida intanto nel pomeriggio di martedì nell'obitorio del cimitero di Ostuni il medico legale Domenico Urso effettuerà l'esame otoptico necessario a determinare con precisione l'orario del delitto e soprattutto la dinamica della prima esecuzione quella di Tonino avvenuta secondo Cosimo durante una collutazione mentre i carabinieri sono di tutt'altro parere per il momento l'avvocato difensore dell'indagato Carmela Roma non ha intenzione di presentare ricorso al tribunale del riesame per chiedere la concessione degli arresti domicidiari che proprio per le motivazioni espresse dal GIP in questa fase sarebbe improponibile A Francavilla Fontana la procura si è portata a Castello Imperiali per una serie di accertamenti ascoltati anche alcuni dipendenti Michele Iurlaro Nessuno tra di loro risulta indagato e anzi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti quali nel dettaglio lo sanno solo ai piani alti di Via Lanzellotti a Brindisi tutti erano pronti a collaborare con il magistrato che è accompagnato dai suoi collaboratori e dai poliziotti e ha fatto visita intorno alle 10.30 di lunedì mattina a Castello Imperiali per una visita non certo di piacere e neppure annunciata ma è evidentemente finalizzata a chiarire alcuni aspetti in qualche modo balzati all'attenzione della procura messapica circa il funzionamento della complessa macchina amministrativa burocratica che regola gli uffici di Palazzo di Città 6 ore di colloquio 6 appaiono comunque tante o forse no per superare eventuali incertezze legate a verbali per eccesso di velocità o chissà qualche busta paga stropicciatasi per errore in una stampante certo è che il magistrato Raffaele Casto accompagnato dai suoi collaboratori e dagli ufficiali di PG ha chiesto di poter usufruire di una stanza dotata di PC all'interno dell'iconico palazzo ascoltando e confrontandosi con il direttore generale dell'ente Marco Lesto con un dirigente con un funzionario e con un dipendente a colorare il quadro l'acquisizione di documenti mano a mano recuperati dai settori legati ad affari generali e patrimonio e la già citata collaborazione andata avanti sino al pomeriggio sei ore di colloquio sei per il magistrato che alla fine non si è neppure concesso una pausa pranzo preferendo piuttosto restare a Castello Imperiali sino alle 16.30 poi le auto di servizio sono andate via prendendo persino strade diverse che si sa le vie della procura sono infinite un po' come sarà sembrata a qualcuno quella lunga visita di lunedì in quello splendido e bellissimo castello importante convegno a Taranto sulla transizione ecologica e le prospettive per il futuro Leo Spalluto un'industria green che mette al primo posto la salute e contemperi il diritto al lavoro la costruzione di comunità energetiche la finanza il consumo responsabile e il sostegno ai giovani che rappresentano la speranza queste alcune delle direttrici tracciate dall'arcivesco di Taranto Monsignor Filippo Santoro nel messaggio inaugurale del convegno transizione ecologica e prospettive per il futuro della Puglia Taranto Capitale organizzato da Nieco Group SRL convegno moderato dal nostro direttore editoriale Pierangelo Puzzolo e dal direttore responsabile Gianni Sebastio dopo l'introduzione di Domenico Nicolotti direttore tecnico di Nieco e i saluti dell'arcivescovo il convegno ha registrato un'ampia e qualificata partecipazione al dibattito con gli interventi dell'ammiraglio Flavio Biaggi comandante del Comando Marittimo Sud del prefetto di Taranto Demetrio Martino del presidente regionale di Confindustria Sergio Fontana e del presidente della BCC di San Marzano Emanuele Di Palma fra un mini talk e l'altro l'intervento del presidente della regione Puglia Michele Emiliano Ricordo ancora i primi bianchi della speranza che io ho fatto a Bruxelles con la Commissione presso la Commissione Europea per convincere la DG di crescita e la DG Ambiente a ricominciare a investire sulle acciaieriche in generale in Europa ma ovviamente davvero ovviamente tanto per consentire quelle innovazioni tecnologiche che avrebbero potuto consentire di uscire dal ciclo integrale Il convegno ha proposto temi di grande interesse con la partecipazione di Salvatore Toma presidente di Confindustria Taranto Fabio De Bartolomeo presidente del Lancia Ionica Antonello Cassalia presidente della Cassa Edile Taranto Ruggero Ronzulli presidente di Legambiente Puglia Rosario Meo comandante della Guardia Costiera di Taranto presenti anche Anna Grazia Maraschio assessore alla pianificazione territoriale e assetto del territorio della Puglia Mattia Giorno assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto e i parlamentari Dario Iaia di Fratelli d'Italia Vito De Palma di Forza Italia e Mario Turco senatore vicepresidente del Movimento 5 Stelle Giovanni Collocola direttore commerciale di Nienco ha concluso i lavori della giornata Ormai da mesi al centro del dibattito politico ci sono le polemiche che hanno investito la riforma cartabia riforma che evidentemente non piace neppure agli avvocati Maria Teresa Carrozzo Avvocato parliamo della riforma cartabia tante le novità portate ma in realtà l'avvocatura non è stata sentita come ha detto bene lei le novità della cartabia sono tantissime sono strutturali è una riforma complessa molto ampia ma dal punto di vista dell'avvocatura devo dire difetta di un presupposto di base secondo noi ai tavoli della legge non c'erano molti avvocati ce ne erano pochi la figura invece del difensore sarebbe stata fondamentale per dare un contributo in ordine alle esigenze effettive del processo perché noi insieme ai magistrati quotidianamente nelle aule di giustizia ci rendiamo conto di quali possono essere le problematiche che possono evidenziarsi nel corso di un dibattimento ci siamo stati poco ascoltati anzi diciamo che se vogliamo in qualche modo è diventato ancora più impegnativo il carico di lavoro del difensore si è ancora più allargato ma con delle competenze che in realtà non dovrebbero essere del difensore e mi riferisco per esempio alle pene sostitutive delle pene detentive brevi perché in questo caso il legislatore appunto non ascoltando quasi per nulla la voce degli avvocati ha inteso attribuire ai difensori il compito di redisporre tutta la documentazione necessaria al fine poi di poter porre al giudice la domanda per l'ammissione delle pene sostitutive tipo semilibertà detenzione sostitutiva lavori di pubblico utilità o pene pecuniari in questo caso l'avvocato diventa una figura diversa perde la sua tecnicità nell'intervento in favore del proprio assistito questo non può andare bene vedremo appunto nella prassi cosa accadrà restiamo nel Leccese è stata annullata la chiusura temporanea dello sportello CUP di Tricase una decisione presa dalla ASL dopo le polemiche durissime degli ultimi giorni Paolo Franza questo sportello resterà chiuso fino a nuova disposizione questa è la frase riportata su di un cartello affisso nei giorni scorsi presso lo sportello CUP della ASL con sede a Tricase in via Segni all'attenzione dell'utenza una chiusura temporanea dettata da un ordine di servizio dell'azienda sanitaria locale che aveva spostato un dipendente da Tricase a Gagliano del Capo la preoccupazione dell'utenza aveva fatto partire diverse telefonate da parte delle istituzioni che chiedevano spiegazioni su tale decisione alla stessa ASL si tratta di una situazione temporanea dovuta alla carenza di personale aveva dichiarato il sindaco di Tricase Antonio De Donno che ha poi rassicurato ai cittadini che lo sportello non verrà toccato lo stesso Rocco Balese assessore regionale della sanità ha poi confermato che non c'è alcuna intenzione di chiudere lo sportello CUP di Tricase né alcun altro servizio attualmente in essere a Tricase la chiusura è stata infatti revocata e lo sportello è risultato regolarmente aperto a Monopoli ci occupiamo adesso di prevenzione è stata inaugurata la nuova sede della Lilt sentiamo Claudia Carbonara il professor Francesco Schittulli presidente nazionale della Lilt lega italiana per la lotta contro i tumori ha inaugurato la sede della delegazione di Monopoli della Lilt ospitata nei locali dell'associazione umanitaria Lilli Colucci la sede monopolitana nasce con l'intento di rafforzare sempre di più i servizi erogati dall'associazione Lilli Colucci sul territorio da ormai 4 anni impegnata in attività che hanno finalità umanitarie solidaristiche e di utilità sociale all'inaugurazione della sede hanno partecipato il sindaco di Monopoli Angelo Annese la presidente della Lilt città metropolitana di Bari l'avvocatessa Marisa Cataldo la presidente dell'associazione dottoressa Miriam Colucci il presidente onorario del medesimo sudalizio nonché membro del direttivo provinciale della Lilt il grande ufficiale barone Vita Antonio Colucci la necessità della Lilt della Lega Italiana per la lotta continua di essere presente su tutto il territorio e questa è un'opportunità che viene fuori da Monopoli grazie alla disponibilità e alla sensibilità del barone Colucci Questa delegazione è un fatto molto importante perché potrà servire tutto il sudbarese con riferimento ai consulti agli aiuti e se vogliamo anche alle visite con riferimento alle persone che sono soggette a delle eventuali visite precauzionali dei tumori Siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra associazione di Monopoli la sede Lilt Monopoli questa intesa nasce per portare avanti un progetto che ci accomuna ovvero il progetto di divulgazione su temi di prevenzione e a tal proposito insieme realizzeremo eventi formativi nelle scuole in piazza per diffondere l'importanza della prevenzione Sicuramente la città di Monopoli risponderà siamo certi anche grazie al supporto che abbiamo dell'associazione Milli Carlucci risponderà a questo appello di prevenire un traguardo importante ma che non vuole essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza per la Lilt quindi da qua attraverso l'aiuto di questa realtà bisogna continuare a dare un contributo operativo da Latiano a Kiev un basso rilievo rappresentante San Michele Arcangelo in viaggio verso l'Ucraina in segno di pace Alessandro Zanzico un basso rilievo rappresentante il messaggero di pace San Michele Arcangelo è pronto per affrontare il lungo viaggio che dalla Puglia lo vedrà raggiungere Kiev un progetto promosso e curato dall'associazione culturale l'isola che non c'è di Latiano è abbracciato da rettori sindaci ambasciatori governatori politici giornalisti vescovi e volontari civili nella mattinata di lunedì 13 marzo il basso rilievo realizzato dal maestro Cosimo Giuliano è stato trasferito dallo studio dell'artista alla Basilica Cattedrale di Oria dove resterà esposto per una decina di giorni circa è una piccola opera però insomma deve servire per un grande messaggio di pace per cercare di dire no alla guerra lo devo un'iniziativa proprio dell'associazione l'isola che non c'è porta a Oria per dieci giorni quest'opera mi sembra doveroso anche accompagnarla siamo onorati infatti di poterla ricevere e accompagnare questo messaggio di pace soprattutto questo l'opera farà poi tappa nella Cattedrale di Taranto ed infine nella Basilica di Bari prima di essere trasferita in treno alla volta di Trieste un tir lo trasporterà fino a Kiev dove verrà consegnato all'ambasciata italiana locale per essere poi collocato nel sito definitivo un progetto audace che ha come obiettivo finale il far giungere nella capitale ucraina questo piccolo grande segno di pace un viaggio complicato ma comunque un viaggio di speranza di pace da Latiano a Kiev mi piace il titolo mentre Kiev e i governanti di Kiev chiedono invocano armi noi stiamo portando arte ed è tutto per quanto riguarda questa edizione interregionale del nostro telegiornale l'informazione su Antenna Sud prosegue adesso con le edizioni provinciali tocca adesso ai territori di Bari BAT e Foggia parte tecnica curata da Michele Marchitelli in regia Fabio Pinetelli in RVM grazie per l'attenzione linea ai colleghi di Bari BAT e Foggia rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo